La provincia di Salerno ha disposto nel comune di Altavilla-Silentina la chiusura mediante blocchi di cemento per impedire il passaggio della strada provinciale 317 che collega Altavilla-Silentina con la vicina città di Eboli. La decisione è stata effettuata per motivi di sicurezza dopo l'inalzamento del livello dell'acqua che ha iniziato a fuoriuscire e a creare fenomeni di allagamenti nei terreni circostanti. La situazione è tenuta sotto costante monitoraggio anche in virtù delle continue precipitazioni piovose che interesseranno il territorio nei prossimi giorni. Stesso discorso anche per il fiume Tusciano a Battipaglia che nei giorni scorsi aveva lambito il ponte Clarizia. Attenzione anche per argini del fiume Sele ed ancora Buccino ha creato danni ad un ponte di ferro che si trova in prossimità della zona industriale che si è allagata provocando disservizi all'asseviario. A Polla per un altro smottamento ieri sera sono state evacuate sei famiglie nella zona Cappuccini. Invece sotto sequestro le tre abitazioni che nella serata di mercoledì sono state travolte dalla frana a coperchia di Pellezzano. I sigilli sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di mercato San Severino al lavoro per ricostruire l'accaduto ed accertare se lo smottamento di terreno poteva essere evitato. Al momento non si esclude l'intervento della magistratura come accaduto per la frana di Amalfi. A Polla per un altro smottamento di terreno poteva essere evitato.